È stata la voce di Dio a dirmi di lanciare la bambina dalla finestra. Questa la versione che Giuseppe Dauria, il quarantenne di Fisciano accusato del tentato omicidio della figlia di appena due anni, ha consegnato nell'interrogatorio di garanzia. Nell'aula bunker del Tribunale di Nocera Inferiore, assistito dagli avvocati Silverio Sica e Tommaso Amabile, l'uomo ha confessato. È stato lui ad aver lanciato la piccola dal terzo piano dell'abitazione di Fisciano, come spiega uno dei suoi legali. Come un fiume ha avuto la necessità di dire che egli l'aveva lanciata, che era stato lui obbedendo a delle voci che nella sua testa gli dicevano di compiere questo gesto per salvare il mondo. Gli avvocati hanno presentato istanza al giudice di trasferire Giuseppe Dauria dal carcere di Bellizirpino, dove è attualmente detenuto in una struttura psichiatrica. Noi abbiamo chiesto che venisse ricoverato in una struttura psichiatrica, una casa di cura psichiatrica. Al vaglio della procura di Nocera Inferiore, anche la posizione della madre della bambina, che agli investigatori aveva raccontato una versione diversa. La signora non ha alcuna responsabilità nella vicenda, la signora ha semplicemente obbedito, io ritengo, all'istinto di una moglie che resta incredula di fronte alla possibilità che il proprio marito abbia, il padre della bambina abbia buttato giù la propria figlia. È evidente che ha detto non è possibile, è caduta. Sicuramente la sua convinzione è di assoluta buona fede rispetto a questo.